carissimi amici del canale buonasera andiamo a fare il nostro oracolo del giorno il giorno 21 luglio 2022 sì domani 21 luglio 2022 e andiamo a vedere come sarà la giornata di domani e quali saranno giustamente le novità nel frattempo ricordo anche quelle persone nuove che guardano il video perché di persone ce ne sono vi invito chiaramente a iscrivervi al canale e scontare magari la campanellina per rimanere sempre aggiornati se avete bisogno di me di qualsiasi genere di informazione sul canale come ben sapete trovate i miei contatti e potete tranquillamente iscrivermi vi ricordo che non rispondo a numeri che non conosco detto questo andiamo quindi a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 21 luglio 2022 quindi come sarà la giornata e cosa accadrà in questa giornata 21 luglio 2022 lo andiamo a chiedere come sempre alle nostre cinque carte andiamo a fare i nostri chiarimenti lì dove ce ne fosse bisogno allora state ponendo resistenza su una determinata situazione una situazione un po altalenante perché perché avete comunque dei dubbi sapete perfettamente che dovete prendere una decisione importante ma non sapete quale decisione prendere e ci state riflettendo tantissimo probabilmente questa decisione potrebbe essere per un capo oppure per una persona che a vostro fianco dove chiaramente ci sono dei conflitti e litigi e o meglio conflitti litigi più che conflitti e litigi più che altro ci possono proprio s ci possono proprio essere delle delle rotture che proprio rotture o rotture in linea generica di un rapporto di un'amicizia magari in famiglia oppure possono proprio essere rotture di accordi infatti dovete comunque parlare dovete comunicare dovete cercare di trovare comunque sia un accordo ok anche se questo parlare trovare comunque il comunicare trovare comunque sia un accordo tarda un po ok tarda un po tarda però con comunque con successo ci sono delle novità in merito a questo allora andiamo a vedere questo quattro di bastoni cosa vuole comunicarci di più quindi cosa dobbiamo sapere di più su questo quattro di bastoni è un qualcosa magari che riguarda l'ambiente familiare ok o potrebbe anche riguardare l'ambiente lavorativo c'è resistenza appunto proprio su qualcosa dove state aspettando state attendendo comunque un successo che ancora non arriva perché in questo successo si richiede comunque un po di tempo ok però vedo nell'ambito familiare attendendo questo successo ci potrebbe essere armonia quindi benessere ehm felicità perché attendendo quindi ponendo resistenza e attendendo questo qualcosa che voi state aspettando dove avete mirato vi porta comunque sia ad avere armonia e benessere nella relazione nella nella famiglia ok dovete 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 tanto parlare tanto comunicare con qualcuno probabilmente qui si parla proprio di di soldi soldi in arrivo ok e probabilmente è proprio su questo che state state aspettando andiamo a vedere questo 6 di denari cosa vi vuole comunicare e quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni infatti i dubbi che ci sono i dubbi la situazione altalenante che vive che vivete è proprio in merito a un'insoddisfazione quindi voi state attendendo proprio qualcosa che vi porti a stare comunque bene è semplicemente un momento di difficoltà ok che potrebbe essere una difficoltà economica oppure semplicemente un periodo fortunato ma le cose le problematiche comunque sia saranno risolte perché comunque sia verrete aiutati per questa situazione bloccata verrete aiutati comunque da qualcuno però c'è proprio un senso una difficoltà un senso di sono delle difficoltà magari ecco passeggere nella giornata di domani delle difficoltà che come vi ho detto vanno vanno risolte queste difficoltà mi portano un po comunque di di pesantezza e da capire da riflettere da capire semplicemente come risolvere queste piccole difficoltà che possono arrivare domani se di bastoni cosa vuole comunicarci e quindi andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni queste difficoltà che magari arrivano che potreste avere domani dove appunto vi fanno sentire insoddisfatti vi fanno riflettere possono essere delle difficoltà che vi crea comunque sia una terza persona una persona che cerca in tutti i modi di portarvi a ad abbandonare una certa situazione una certa relazione una certa persona quindi a chiudere questa persona vorrebbe ok che in una situazione o in un rapporto che voi vivete voi vi allontanaste riflettete tanto in merito a questo ok infatti abbiamo anche il 3 di denari rovesciato che parla proprio di riflessione di non agire comunque con con immaturità con leggerezza perché comunque riuscirete ad ottenere il vostro il vostro il vostro trionfo le vostre soddisfazioni anche se comunque sia ci dovete andare con calma vediamo questo 10 di denari cosa vuole invece comunicare e quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni qualcuno che vi pugnala le spalle qualcuno che parla male ma che vi sta vicino è come se voi avete capito chi è questa persona e cercate di capire a che gioco magari sta giocando è una persona che comunque prova invidia per voi infatti voi con quest'ora di denari riuscirete ad avere il vostro trionfo ok a fare comunque dei progetti ma con calma ci dovete comunque andare con calma questa cosa ritarderà però avete il vostro avrete scusate nel vostro equilibrio la vostra la vostra stabilità la vostra serenità e la vostra gioia il tutto è comunque in movimento se parliamo di relazioni se parliamo invece di lavoro vi posso dire che con questo re di denari riuscirete ad ottenere qualcosa con calma riuscirete a fare a livello proprio lavorativo magari i vostri meriti o quello che volete dovete soltanto attendere e questi meriti che arriveranno vi porteranno ad avere la vostra stabilità anche economica per quanto riguarda i single e per quanto riguarda le relazioni chiaramente domani potreste incontrare qualcuno di vostro interesse si ve lo confermo poi c'è del denaro che deve entrare vi deve vi deve arrivare c'è del denaro in arrivo per voi c'è tanta attrazione fisica nei confronti di qualcuno andiamo a vedere questo 5 di spade cosa vuole comunicarvi che ci possono essere delle novità delle novità delle novità su degli ostacoli che si possono presentare che vanno a bloccare una certa situazione e non soltanto delle novità ma magari un abbandonare qualcosa una situazione qualcuno uscire da una situazione comunque stagnante quindi cercare di vedere come fare per uscire da una situazione stagnante che potrebbe essere anche comunque l'abbandonare ok la persona di vostro interesse però ci sono delle novità nella giornata di domani quindi allora andiamo a vedere bastoni e spade quindi quindi ci sono delle notizie un po' negative 4 di bastoni e 4 di bastoni e 4 di spade cosa vogliono dirci vediamo che genere di notizie vediamo che genere di notizie che magari poi non sono negative come è già successo ieri o meglio oggi nell'oracolo di oggi ci sono degli ostacoli certo ok che vi portano però anche riuscirete ad avere chiarezza su una certa situazione degli ostacoli o meglio delle difficoltà che vi portano comunque sia ad avere chiarezza quindi riuscirete ad avere chiarezza su una situazione magari verrete a scoprire come vi dico sempre un tradimento un inganno perché non è detto che il tradimento sia insomma solo ed esclusivamente il tradimento di relazione può essere visto in qualsiasi sotto qualsiasi punto di vista ci sono proprio delle comunicazioni che il vostro partner il vostro amico qualcuno di vostro interesse vi possa fare ma non sono comunicazioni comunque positive ok cosa dirvi di più c'è un qualcosa di scritto non piacevole che vi può magari arrivare un'email una lettera un messaggio dove magari vi porta ad andare un attimo in tilt ok e dovrete affrontare qualcosa a livello burocratico magari vi mette un attimo sotto sopra poi abbiamo l'asso di bastoni rovesciato e l'asso di denari rovesciato cosa vuole comunicare magari incontrare qualcuno il vedervi con qualcuno perché i due assi ci parlano comunque di un incontro un incontro un incontro proprio un incontro a livello di corpi ok probabilmente incontrerete magari la persona di vostro interesse o il vostro compagno il vostro moroso c'è qualcuno qui che desidera proprio un qualcosa che cresca e che comunque sia vada vada avanti invece per altri di voi per alcuni di voi c'è proprio una pesantezza affettiva o una pesantezza lavorativa eventualmente andiamo a vedere due di spade rovesciato e due di coppe rovesciato c'è una decisione da dover prendere vi dico subito in merito anche a cosa c'è una decisione da prendere in merito a ha delle comunicazioni che il partner chiaramente vi fa ok che sono delle comunicazioni negative e quindi a quel punto insieme dovete prendere una decisione con fermezza però la carta vi consiglia comunque sia di riflettere vediamo invece quali altre novità ci possono essere nella giornata di domani 21 luglio 2022 qualche notizia comunque spiacevole che va a minare il vostro equilibrio la vostra stabilità adesso che lo avevate raggiunto ok magari c'è una una delusione ok su un qualcosa che probabilmente arriva perché ci sono comunque sia delle notizie ripeto che non vi piaceranno non vedo più queste notizie per quanto riguarda i sentimenti ma queste notizie che non vi piaceranno è come se riguardassero tutt'altro ok anche perché a livello relazionale comunque c'è questa relazione importante o questa persona di vostro interesse comunque che per voi è importante solo che dovete uscire da situazioni stagnanti per averla altrimenti comunque andate a chiudere anche un certo tipo di rapporto ok però ripeto ci sono delle novità che vi ingrigiscono quindi vi fanno vi fanno avere un po di malumore che vanno appunto a minare la vostra il vostro equilibrio la vostra la vostra stabilità ci sarà un attimo nella giornata di domani che veramente potreste avere magari qualche problematica ok incontrare comunque per altri di voi qualcuno un incontro comunque piacevole per altri di voi come ho detto il disinteresse nel proseguire la relazione quindi altri di voi invece se dobbiamo parlare a livello sentimentale volete chiudere comunque la relazione non è per tutti come vedete vi sto dando tutte le varie opzioni di questa di questa lettura cosa c'è da sapere più allora andiamo a vedere invece i nostri angeli e arcangeli quale consiglio comunque sia vi danno quale consiglio diamo per la giornata di domani l'arcangelo michele vi parla di organizzarvi di avere più logica nelle cose e quindi cercare di organizzarvi di avere una struttura ok e anche una disciplina ricordatevi che comunque siete dei leadership e quindi di conseguenza dovete proprio andare avanti in questo modo ok cercando di essere comunque sicuri di voi senza farvi abbattere da nessuno poi c'è l'arcangelo camaele l'esperienza che parla di un evento importante c'è un qualcosa che viene alla luce una potente rivelazione che porta proprio a un cambiamento e questo cambiamento questo qualcosa che viene rivelato ok permette a voi di poter aprire le ali quindi di poter volare di prendere il volo ma verso cose comunque sia positive quale sarà l'evento importante ragazzi chi vivrà vedrà quindi domani insomma vedremo che cosa comunque accadrà e quale sarà l'evento importante ricordatevi però che ci possono essere degli eventi domani non molto positivi e altri eventi comunque potrebbero essere positivi guardando le carte ok quindi attendiamo domani e vediamo che cosa succede io vi auguro una buonanotte se vi è piaciuto il video lasciate un like un commento ok e noi ci risentiamo domani buonanotte buona serata ciao